Una parte del lavoro generale di abbellimento del Campidoglio, nel quale siamo impegnati per l'evento del 29 ottobre, siamo impegnati in generale perché questo è uno dei luoghi più belli e più importanti dal punto di vista culturale del mondo, per cui più curato è, meglio sta e meglio è per la cultura mondiale e questa ricollocazione di una copia della statua e l'altra la stiamo restaurando è parte di questo progetto che ci ha portato a riorganizzare gli interni, a risistemare anche degli esterni importanti del Campidoglio e penso che saremo nel modo migliore per il 29 ottobre. Allora, non si sa mai. Grazie. 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 Grazie.